Chiuso, 30 gol e 30 gol Sicuramente il riempiamento è stato riposto nel cassetto Esiste solo una sciabola per liberare l'area Felipe Anderson Penta Maldey, Cataldi Il pronto gioco di Cicchetta Penta Maldey Penta Maldey Penta Maldey Che aveva assegnato il Champions E l'elito Contro il Maglio Rebettus E poi Una golla di oggi Per Cataldi Si toglie la maglia E dunque è trovabile Che il gancho è morito Qui vediamo la giocata di Cataldi Palla sul palo di rete E' un risultato E' un risultato Non da riesce a intervenire solo al pallone Riludiamo ancora la palla che colpisce il palo Termina in rete 1 a 0 Lattro